Tre steppe di intervento, il primo di sommorgenza per dragare il fondale del porto, il secondo riguarda la ripresa dei lavori già appaltati, il terzo rendere esecutivo un nuovo progetto e quanto si è deciso per il porto di Marinella di Selinunte, ieri sera nell'incontro che il presidente della regione Nello Musumeci e gli assessori Tony Scille e Marco Falcone hanno tenuto presso Palazzo d'Orlean con due pescatori di Selinunte. Alla riunione sono stati presenti i sindaci di Castelvetrano e Partanna, Enzo Alfano e Nicola Catania. Da cinque giorni i pescatori di Selinunte bloccano via del cantone proprio all'ingresso del porto della Borgata per il mancato dragaggio del porto e che di fatto ha ingabbiato tra Posidoni e Sabbia le loro imbarcazioni. Secondo quanto è stato deciso nella riunione di ieri sera, già stamattina gli uffici dell'assessorato alle infrastrutture si sono attivati per definire un provvedimento di sommorgenza e dare così l'incarico ad una ditta specializzata per il dragaggio. Questo primo intervento consentirebbe ai pescatori di poter tornare in mare con le proprie imbarcazioni da pesca. Ieri sera è stato deciso anche un sopralluogo per lunedì con i tecnici regionali all'impresa per la prosecuzione dei lavori già paltati. Siamo soddisfatti per avere avuto risposte precise per dare la possibilità ai lavoratori di poter portare avanti la loro attività senza impedimento alcuno, hanno commentato i sindaci Alfano e Catania. Dopo avere anche trascorso alcune notti all'addiaccio a presidio della zona di lavoro per rendere la loro protesta ancora più intensa, nei giorni scorsi è stato anche organizzato un banchetto per la raccolta firme e così sostenere la protesta dei pescatori di Marinella per il mancato dragaggio del porto allestito in via del Cantone. Firme consegnate ieri a Musumeci, solidarietà ai pescatori anche da parte di Franco Messina, del direttivo del comitato Orgoglio Belicino, già in prima fila per la battaglia dell'ospedale di Castelvetrano, quella del porto di Marinella, è un problema di tutto il territorio, ha detto, mi piacerebbe vedere qui a protestare tantissimi cittadini e non solo i pescatori che stanno rivendicando di poter tornare a lavorare in mare in sicurezza.